Unità 4 C. Volete ordinare? 1. Guardate e ascoltate Senta, scusi, volete ordinare? Sì, io vorrei un caffè e un'acqua minerale. Gassata o naturale? Naturale. Va bene. Per me è un cappuccino e una pasta. Un cappuccino anche per me. E per lei? Per me è un caffè, una minerale gassata e una pasta. Io invece prendo un succo di frutta alla pesca. Per me è un cappuccino e un cappuccino e un cappuccino e un cappuccino. Per me è un cappuccino e un cappuccino e un cappuccino.